buongiorno a tutti cari amici di barba bianco rossa e benvenuti in questo nuovo video dunque girandola di nomi che vengono buttati qui e là dai quotidiani in questo in questi ultimi due giorni comincia a muoversi qualcosa quella famosa macchina organizzativa per la costruzione della rosa per la stagione 2023 2024 gli affari arrivano alla definizione soprattutto per quanto riguarda ad esempio faggi del limolese per quanto riguarda bianco in prestito dalla fiorentina sul taccuino del ds polito ci sono altri nomi pare che si sia aperto anche un asse tra il bari il monza monza di galliani non più del presidente berlusconi per ovvie ragioni e quindi vedremo che cosa porterà in dote questa con la proposta sinergia ecco perché si parla di alcuni giocatori altri sono erano già presenti sul taccuino di polito come valoti che poi andrebbe a sostituire quello che il ruolo che è stato di michael foloruso che è ritornato al prestito dal prestito da parte del napoli ed è in orbita empoli ma poi anche barberis anche git chiare tutti i giocatori appunto della formazione brianzola ci sono anche altre alternative per quanto riguarda sia il centrocampo sia l'attacco nell'attacco comunque viene fatto anche il nome di moro moro che è di proprietà del sassuolo che è giocato nell'ultima stagione con i del frosinone guadagnandosi la promozione diretta in serie a sappiamo che praticamente antenucci e pucino rinnoveranno quindi resteranno ancora non si sa se per un anno o per qualche altra stagione comunque ma soprattutto antenucci soprattutto in quale veste ecco quale veste ricoprirà oltre a quella di calciatore a tutti gli effetti con uno spogliatoio sicuramente insieme al capitano di cesare sulla fascia sinistra si fa il nome di colombo mentre oltre a moro per quanto riguarda la fase offensiva all'attacco si sono fatti i nomi sempre di due giocatori però questi di proprietà del milan ovvero colombo e nasti che ha concluso la propria stagione nelle fila del cosenza però diciamo che comunque generalmente sul moro ci sono si potrebbe aprire ecco una semi asta quindi sarebbe diciamo il profilo meno meno facilmente raggiungibile poi tutto può succedere nel mercato tutto può succedere sicuramente con le competenze di Ciro Polito che comunque sono numerose soprattutto in fatto di giovani o meno comunque abbastanza giovani promesse provenienti dalla Lega Pro o dalla stessa cateteria di Serie B diciamo che la linea la linea impartita dalla società o comunque dalla dirigenza per questo calcio mercato sarà quella della costruzione di una squadra con un mix ovviamente di giovani o meno importanti talentuosi con voglia di emergere con fame oltre a questi i giocatori che compongono un'ossatura uno zoccolo duro della formazione bianco rossa quindi i vari di Cesari i vari Puccino i vari Botta staremo a vedere se lo stesso potrà rinnovare comunque anche Mirko Antenucci quindi lato portiere lato portiere ancora tutto tutto tace c'era stato un interessamento verso De Plansch il portiere che aveva fatto tanto bene nei mondiali under 20 in Argentina in finale sconfitti contro l'Uruguay De Plansch del Vicenza che comunque sta comunque affrontando e decidendo per quanto riguarda il suo futuro ci sono molte avance da parte della squadra rosa nera del Palermo quindi se non si sblocca evidentemente alcune caselle e mi riferisco in particolare alle eventuali perché parliamo ancora di eventuali cessioni di Kedira e Caprile che sono quelle diciamo un po' sulla bocca di tutti sono i giocatori che sono stati valorizzati molto di più nella stagione calcistica appena trascorsa fino a quando non verranno smosse quelle caselle evidentemente non si potrà andare alla rincorsa dei sostituti o del sostituto del giocatore sia del giocatore Italo Marocchino che del portiere della Nazionale Under 21 chiaramente la speranza per molti tifosi è quella che i due possano rimanere sicuramente vediamo perché il ritiro a Roccaraso inizia tra un po' quindi è probabile che almeno Kedira sarà tra i primi ad arrivare perché sicuramente Elia Caprile avrà una giunta di riposo proprio perché ha disputato il Mondiale Under 21 che sappiamo tutti com'è andato insomma malissimo per la nazionale maggiore italiana quindi magari alcuni saranno dei partenti durante i ritiri altri magari non verranno proprio in ritiro ci saranno sicuramente nuovi giovani insomma staremo a vedere perché in questo tourbillon di notizie di interessamenti velati o meno anche da parte dei quotidiani principali si smuoverà un po' tutto il mercato del Bari che comunque ha preso inizio con già i primi contatti, le prime trattative in corso quindi macchina organizzativa da parte della società che si è ben avviata dopo appunto il silenzio a cui abbiamo assistito dopo la brutta parentesi dell'11 giugno che aveva fatto stizzire il silenzio della comunicazione societaria sui progetti e sulla chiarezza aveva fatto un po' stizzire la piazza quindi adesso si è completamente in gioco bisognerà trovare la quadra giusta per poter offrire a mister Mignali la rosa diciamo più o meno, speriamo più competitiva rispetto a quella dell'anno scorso perché poi alla fine dei conti è la speranza di tutti i difusi bianco-rossi quella di poter comunque fare un'impresa nell'impresa ma sappiamo che le stagioni non sono sempre uguali a quelle passate ogni stagione come ogni partita è una stagione a sé, una partita a sé quindi vedremo quale sarà l'assemblamento di questa rosa dopodiché potremo trarre le conclusioni a fine mercato poi sarà il campo, il giudice sovrano detto questo ragazzi erano piccole, più notizie fondate, infondate un po' che si leggono sui canali di comunicazione io vi auguro un buon weekend, sempre a lei, la baria a lei e mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanella e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi profili che sono annotati sul taccuino del DS Pulito e del quale evidentemente la dirigenza sta tessendo un po' le trame per arrivare a delle conclusioni di acquisizione, alle prestazioni dei suddetti giocatori quindi io ancora vi auguro buon venerdì e arrivederci al prossimo video ciao da Barba Bianco Rosso